La cardiopatia ischemica La cardiopatia è determinata da un ridotto apporto di sangue al cuore per causa di un trombo, con l'ostruzione e ristringimento dei vasi che nutrono il muscolo cardiaco. Questi vasi, chiamati arterie coronarie, sono soggette, come altre arterie di vari distretti corpori, ad un processo di irrigidimento e di deposizione di grassi sulle pareti, fenomeno comunemente noto con il nome di aterosclerosi, che si sviluppa abitualmente con il trascorrere degli anni. Vi sono dei fattori di rischio che predispongono all'insorgenza di questa malattia. Valori di colesterolo superiore alla norma, l'ipertensione arteriosa, il fumo di sigaretta, il diabete, lo stress e la vita sedentaria, sono alcuni di questi fattori modificabili da terapie medico-dietetiche e da una più regolare stile di vita. Anche la presenza della malattia nella propria famiglia, il progredire dell'età ed il sesso maschile, sono considerati importanti fattori di rischio, ovviamente non suscettibili di modificazioni. La cardiopatia ischemica, come è stato detto, è la malattia che interessa le arterie coronarie. Ecco qui abbiamo una diapositiva che ci aiuta a capire. Perfetto. Caratteristicamente la malattia delle coronarie dipinge due quadri fondamentali. Un quadro subdolo cronico che è rappresentato dalla seconda immagine. La prima immagine è quella di una coronaria normale. La seconda immagine rappresenta la parete dell'arteria coronarica che è stata infiltrata dal materiale lipidico. E questo materiale lipidico, questa placca, ne riduce il lume senza ostruirlo. Questo cosa significa? Che se il soggetto non svolge attività fisiche importanti, rimane completamente asintomatico. E quindi questa fase della malattia può essere assolutamente subdola. Nell'ultima immagine invece è rappresentato il momento drammatico di un infarto miocardico acuto. che è rappresentato da una piccola ferita, come è dipinta da quella lacerazione della superficie dell'endotelio vascolare, sopra cui si viene a formare acutamente un trombo. Il processo è assolutamente naturale e fisiologico perché è lo stesso processo che avviene sulla nostra acute quando si determina una ferita. Si forma una crosta e questo ben venga perché è quello che ci permette di bloccare il sanguinamento. Ovviamente sull'acute c'è molto spazio. all'interno di un lume vascolare piccolo come la coronaria c'è poco spazio, per cui questa formazione del trombo può occludere improvvisamente la coronaria, abolendo il flusso sanguigno al miocardio. Gli esami dobbiamo effettuare per diagnosticarlo, questo infarto, questo problema? Per parlare di infarto devono essere realizzati almeno due dei seguenti elementi. Dolore toracico, modifiche dell'elettrocardiogramma ed enzimi cardiaci. Cioè queste sono cose che si devono verificare o che devono presenti? Devono essere presenti almeno due su tre. Il dolore toracico è un dolore oppressivo, retrosternale. Il paziente spesso lo accusa come un pugno, una chiusura. Irradiata spesso al braccio, soprattutto di sinistra, ma anche al giugolo fino alla mandibola. Potrebbe anche essere irradiata allo stomaco o presentarsi come un forte mal di stomaco. E' questo che volevo, infatti, scusami, non lo interrompo. Parecchi dei nostri, alcuni dei nostri pazienti che si presentano soprattutto con quello che è l'infarto della parete inferiore del cuore che appoggia sul diaframma, pensano di aver avuto un'indigestione. Un'indigestione. Ma gli enzimi cardiaci possono incrementare fino a sei ore dopo l'inizio di un infarto. Per cui, in genere, la diagnosi viene fatta sul dolore toracico e le modifiche dell'elettrocardiogramma. L'infarto acuto è cambiata molto negli ultimi vent'anni. All'inizio la riapertura della coronaria veniva cercata con una terapia medica. Ultimamente, invece, negli ultimi dieci anni molto importante è l'angioplastica. Quindi, attraverso l'introduzione in un arterio di tubicini di plastica, che vediamo qui nelle diapositive, si posizionano questi tubicini di plastica all'imbocco della coronaria e attraverso questi tubicini passa un filo, sul filo passa un pallone che cerca di ottenere la disostruzione meccanica. Quindi allarga il punto in questione. Allarga il trombo, quel trombo che abbiamo visto nella prima diapositiva. Alla fine c'è poi quasi sempre il posizionamento di uno stand, che è come un bigodino del signore, chiuso, che poi viene allargato e rimane ad allargare la coronaria. Dove viene fatto questo? Nella sala di emodinamica. Qui vediamo un filmato della nostra, una delle nostre due sale di emodinamica e in questo punto, in questo posto dell'ospedale, accessibile molto rapidamente nel nostro ospedale, perché la situazione è molto favorevole, vicino all'unità coronaria, vicino all'apertura all'esterno, otteniamo, facciamo questo esame. Questo flusso nero vedete che a sinistra è molto rapido, sulla coronaria invece che va alla destra è molto più lento, quella è la coronaria occlusa, a questo punto l'operatore fa passare. Ecco, questa immagine fa vedere come un'altra coronaria, se possiamo rivedere l'immagine, si puoi vedere da capo. In questo momento non è interessata dall'infarto, però vedete com'è tutta irregolare, quindi sicuramente lì c'è una malattia aterosclerotica e non sappiamo, come ha detto prima il dottor Pozzi, quando e se e quando questa coronaria si chiuderà. Quindi la prevenzione sarà molto importante anche su questa coronaria. Nel nostro reparto, come in tutti i reparti dell'ospedale, le visite dei genti per ovvi motivi organizzativi sono consentite in determinate fasce orarie. A questo proposito, noi al momento del ricovero, al paziente consegniamo, oltre alla carta dei servizi che dà delle informazioni di carattere generale, un opuscolo informativo del reparto, seguito da una breve spiegazione sull'organizzazione. Dopo l'accettazione medica si completano queste informazioni che riguardano poi l'iter diagnostico-terapeutico, ma anche assistenziale infermieristico. Questo per tranquillizzare il paziente e creare così un'atmosfera distesa. Diciamo che nel particolare, per ciò che riguarda i pazienti che vengono sottoposti a coronarografia o ad eventuale angioplastica, la nostra organizzazione prevede che un parente, un parente o un familiare, possa stare vicino tutta la giornata. Anche questo aiuta moltissimo. Sì, ma non perché ci sia bisogno di un'assistenza particolare, ma perché la nostra esperienza ci ha insegnato che la vicinanza di una persona cara è comunque di conforto e aiuta anche molto dal punto di vista psicologico. Il fatto emotivo dell'infarto miocardico acuto è radicalmente cambiato negli anni. Se lei pensa, aneddoticamente, che sui libri su cui abbiamo studiato noi alla fine degli anni 70 l'infarto miocardico acuto veniva ricoverato per 30 giorni con degenza obbligata a letto. Questo fa quasi sorridere, ma oggi per fortuna non è più così. Oggi ci siamo spostati su una posizione diametralmente opposta. Oggi l'infarto miocardico acuto rimane in ospedale circa sette giorni, di cui due li passa in unità coronarica e tre nel reparto. Non solo, ma come avete visto dalle immagini di quell'emergenza, immaginate la condizione emotiva del paziente che viene immediatamente buttato sulla barella, trasportato, portato prima in unità coronarica, preparato per la sala di emodinamica, quindi praticamente è come se vedesse la morte in faccia. Dopodiché il dottor Carini gli dice che la coronaria è stata rifatta, che tutto è come prima, che non è stato danneggiato niente, e questo comincia a determinare sbigottimento. Dopo due giorni di unità coronarica, gli diciamo, per carità, si muova, non rimanga più nel letto, e questo ancora. Al settimo giorno lo dimettiamo e gli diciamo, ma mi raccomando, non rimanga a casa a fare l'ammalato, si dia da fare, perché è importante tornare nella vita normale. Lei capisce quando è difficile per aver visto la morte in faccia. Allora, qual è, ed è questa una ricerca di cui vado particolarmente curiosa, che abbiamo fatto nel nostro reparto con il supporto del personale infermieristico, purtroppo oggi la scoperta è stata che una gran parte di malati non ha più l'impatto emotivo dell'infarto. E questo, siamo contenti, ma può creare un fenomeno diametralmente opposto. Il rischio è una condizione che, se è presente, aumenta la probabilità di ammalarsi di una particolare malattia, questo in termini molto generali. Da un punto di vista cardiovascolare abbiamo sentito all'inizio che si possono suddividere i fattori di rischio non modificabili, che sono l'età, il sesso e la prodisposizione genetica, ovvero la familiarità. Certo. Non si possono modificare. No, quelli no. Invece i fattori di rischio modificabili sono la dislipidemia, l'ipertensione arteriosa, il fumo, il diabete, l'obesità, la sedentarietà e lo stress. Sono tanti, eh? Sono molti. Sono molti, ma sono spesso molto correlati tra di loro. Nel senso che l'obeso più facilmente ha una dislipidemia. In realtà, mi scusi se la interrompo, ma è per cercare di... Perché a volte trattiamo queste patologie anche in maniera diversa, poi tornano le informazioni e quindi cerco di ricollegare. L'obesità mi sembra quella forse a monte di tanti di questi... di alcuni di questi fattori come... Certo, perché l'obeso è spesso un iperteso, un dislipidemico, non fa un'adeguata attività fisica e spesso fuma anche. Ecco, sul fattore di rischio c'è da dire questo, che non è che la presenza di uno, come dicevo prima, determina per forza la malattia. Però se io ho un fattore di rischio, magari tipo non modificabile, cercherò di non aggiungere uno che invece può essere modificabile. Tutto questo rientra nell'importanza di acquisire un adeguato stile di vita. Da pochi giorni è operativa nel nostro reparto una nuova sala di emodinamica. La seconda sala, come abbiamo visto all'inizio, è dotata di tutte le tecnologie moderne, ma anche di questo particolare impianto di illuminazione, di luce soffusa, cambia colore e ha un impianto stero. Un po' come abbiamo cercato di privilegiare un po' quelli che sono dei comfort, di un esame fatto, come abbiamo detto precedentemente, in situazioni di stress, in situazioni di tensione, soprattutto nell'esame elettivo, l'esame, diciamo, di emergenza. Il paziente a volte scopriamo che non ha neanche proprio recepito qual è la tensione, ma un paziente che arriva con una situazione di angina stabile, quindi impegnato acutamente, può avere un ricordo dell'esame. Più traumatico, certo. Esatto, mentre invece abbiamo cercato con questa nuova sala di curare molto il comfort del paziente, quindi una luce soffusa, un impianto stereo, oltre ovviamente alle tecnologie moderne. Ecco, le tecnologie moderne, a prescindere da quelle che non discuto, perché immagino che siano appunto quelle più all'avanguardia, però lei mi parlava anche appunto dell'importanza della cronoterapia, cioè di essere circondati da quelli che credo, ritengo, siano i colori più adatti, che ho visto sono... Sì, sì, noi abbiamo una vasta gamma, possiamo scegliere dall'azzurro al verzo lino, al giallo, abbiamo escluso il rosso, perché ovviamente... È il colore che identifica il pericolo. E poi l'importanza della musicoterapia, perché come in tutte le altre patologie, torna anche qui... Sì, c'è la ditta che ha curato il... Diciamo questa... Si è preoccupata anche di questo spesso. Sì, si è occupata, ci ha offerto anche questa possibilità, un impianto stereo, insomma, niente di eccezionale, però questo pensiamo che possa... No, è importante, perché invece siamo abituati noi stessi a pensarci come pazienti numero, in realtà i pazienti sono delle persone e i fatti che accadono possono essere più o meno traumatici, quindi poi per superarli è importante che ci si occupi di tutto questo. Quindi, signora Pio, esiste anche un progetto di prevenzione secondaria che viene fatta ed esiste il ruolo preciso degli infermieri in questa parte di progetto. Sì, diciamo che l'infermiere è comunque un professionista sanitario che è responsabile dell'assistenza infermieristica e tra le maggiori competenze c'è quello della prevenzione secondaria. Cosa si intende per prevenzione secondaria? Cioè, vuol dire che il paziente, una volta che... Noi incominciamo la prevenzione secondaria già dal momento del ricovero, però il paziente deve essere seguito anche nel post-ricovero, no? E questo... Devo dire che questo progetto pilota che noi abbiamo incominciato nel nostro reparto, per questo progetto c'è stata una partecipazione volontaria degli infermieri molto, come si può dire, molto... Sentita. Sentita, molto sentita. Anche perché... Perché questo rientra, credo, in quella situazione di comfort di cui ha bisogno un paziente, cioè quello di essere seguito, capito. Sì, sì. Capisco perfettamente quale possa essere lo spirito che muova il ruolo degli infermieri. Sì, anche perché l'infermiere si vede collocato al centro di un intervento di educazione, no? E per poter espletare a pieno titolo questa funzione, l'infermiere deve poter ricevere una preparazione specifica, no? E a questo scopo tutto il personale della cardiologia effettuerà un corso di formazione accreditato con un approccio multidisciplinare, per cui andranno a incontrare lo psicologo, il diabetologo, il fisioterapista e anche il cardiologo. Questo per migliorare le proprie conoscenze, per poterle strutturare in un certo modo, per poi spiegare bene al paziente e supportarlo in questo percorso che è nel cambiamento dello stile di vita. E riguarda tutti questi ambiti qua. Cambiamento dello stile di vita. E' anche previsto poi l'apertura di un ambulatorio infermieristico e in questo ambulatorio verranno effettuate delle lezioni di gruppo, sia con i parenti che con i pazienti, per riprendere poi i fattori di rischio e per vedere le modalità per poterli superare. E non solo, verranno poi anche effettuati degli incontri individuali con i pazienti a sei mesi, a un anno, dove verrà effettuata una verifica degli obiettivi che erano stati prefissati all'inizio del loro percorso. Anni fa su una rivista americana tipo Newsweek comparve un'intervista che rilevò che gran parte degli americani preferiva rifare una coronarografia piuttosto che far prevenzione. Io vorrei che questo non succedesse proprio perché noi vogliamo far prevenzione in termini di qualità di vita, non di noiosità di vita, non indurre a una vita monastica. Senta, come si può incidere di più? Come si può diventare più capillari nella prevenzione perché avvenga questo? Certo, il vostro è un argomento che non riguarda effettivamente, fortunatamente, la popolazione giovane, quindi mi rendo conto che già farlo nelle scuole sia troppo presto, i ragazzi potrebbero non capire. Però, non so, quali sono gli ambiti in cui si potrebbe aumentare questo modo di fare prevenzione? Forse anche questa trasmissione che stiamo facendo noi. Guardi, non mi apro al discorso delle scuole perché sennò porterebbe via tempo. Io sto lavorando nelle scuole e le assicuro che i ragazzi sono delle spugne, quindi sono in grado di capire, sono in grado di recepire, bisogna parlare a loro nei termini corretti. Ovviamente non parlando a loro di malattia perché loro si pensano immortali, anche noi le reputiamo immortali, perché bisogna parlare a loro nelle giuste modalità. Però loro sono in grado di recepire e anche perché, come ha detto lei, giustamente la prevenzione parte dalla prima età. Eh sì, dalla prima età. Questo è importante. Ma perché diventa un fatto culturale, è un ragazzino, è un bambino e poi un ragazzo che può capire quanto sia importante non diventare un obeso, non fumare. Certo. Ecco, proprio perché le cattive abitudini, ne parlavamo prima, ma purtroppo l'abbiamo tragicamente affrontato da tanti punti di vista, il problema del fumo con i ragazzi o anche delle alde, le droghe. I ragazzi tornano a fumare e soprattutto vorrei nell'ultimo tempo spendere mezza parola perché purtroppo in Italia, cioè purtroppo per fortuna in Italia non siamo ancora arrivati a quei livelli, ma noi nella nostra realtà periferica del San Luigi l'abbiamo verificato e non in un solo caso. In America, quando in un pronto soccorso arriva un infarto inferiore ai 40 anni, dicono di chiedere per prima cosa se si fa di cocaina. La cocaina è fra le droghe quella che il cardiologo non vuole perché la cocaina distrugge le coronarie. La puntata di oggi Antropos si è occupato di cardiopatia ischemica, una patologia ahimè ai primissimi posti mondiali, specialmente nei paesi occidentali, come causa di morte e grave causa di invalidità. La cardiopatia ischemica insorge sempre più in giovane età e spesso sfocia in quella patologia tutti nota, l'infarto miocardico, che può in molti casi essere anche presagio di morte. Bisogna quindi cercare di migliorare i nostri stili di vita, fare in modo che di cardiopatia ischemica non ci si debba ammalare. Come? Prevenendo quelli che sono i fattori di rischio primari, quali per esempio le dislipidemie, il diabete, il sovrappeso, cercando di modificare i nostri stili di vita e nel contempo smettendo di fumare, non facendo uso di droghe. In modo particolare abbiamo visto nella puntata di oggi della cocaina, una sostanza estremamente pericolosa per le coronarie che distrugge. Quindi Antropos è tornato ad affrontare un nuovo tema importante di medicina come già facciamo nel passato. Voglio ricordarvi il nostro sito dove troverete la sintesi di questa trasmissione di tutte le passate che è www.quartarete.tv ed anche il nostro indirizzo di post elettronica che è antropos.quartarete.tv Questo per poterci scrivere e anche per poter chiedere degli approfondimenti sugli argomenti che sono stati trattati. Dunque, cardiopatia ischemica e anche angioplastica. Le tecniche diagnostiche e le tecniche in qualche modo terapeutiche sono profondamente cambiate. Oggi, grazie ad un'angioplastica che può permettere l'introduzione attraverso una banale puntura nel braccio, si può far arrivare un catetere fino al cuore nelle coronarie e quindi dilatarle posizionando eventualmente uno stento, più stenti, queste retticelle che danno una elasticità, riaprono queste coronarie che si sono occluse e quindi impedendo ad una vasta parte del tessuto muscolare cardiaco di morire, di degenerare. Bisogna però stare attenti in modo particolare al colesterolo. Il colesterolo che è una sostanza grassa che ha anche delle funzioni positive ma soprattutto che forma la placca, la placca ateroschelorotica che chiude il vaso coronarico impedendo quindi al sangue di circolare regolarmente. Se questo fattore viene ulteriormente aggravato anche da un diabete, quindi da alti tassi di zucchero nel sangue, le nostre coronarie vanno più facilmente incontro a dei danni, a dei danni anche irreversibili. Si possono quindi tappare, si possono quindi occludere e noi possiamo avvertire un fortissimo dolore al torace, possiamo avere delle modificazioni dell'elettrocardiogramma e degli enzimi cardiaci e abbiamo visto che quando questi due fattori, due di questi tre fattori sono presenti, quasi sicuramente il nostro soggetto è affetto da una cardiopatia ischemica o angina pectoris oppure dall'infarto.